Shabbat shalom a tutti. Scusate, voglio dare il benvenuto per questa parasha questa settimana. Questa settimana è la parasha Todot, che vuol dire generazioni, e ci chiederemo la domanda se Hashem sceglie i preferiti o se ha persone preferite. Si leggerà da Genesi capitolo 25, versetto 19, fino al capitolo 28, versetto 9. Per la produzione profetica l'Aftarah si legge da 1 Samuel 20, versetti 18 a 42, e Malachia capitolo 1, versetto 1, fino al capitolo 2, versetto 7. E per l'Ebrei Kharashah, un nuovo patto, un nuovo testamento, si legge da Luca 3, versetti 1 a 22, Romani 9, versetti 6 a 29, e Ebrei 12, versetti 14 a 17. Non c'è molto da leggere in questo Kharashah questa settimana, però ci sono due parti da leggere per l'Aftarah. Sono rabbino Arel Quintfrae qui a Perugia, e mi voglio dare il benvenuto. Prima di iniziare vorrei aprire questo tempo in preghiera. Padre ti voglio ringraziare innanzitutto per questo tempo di poter studiare la tua parola e andare più in profondità, sempre imparando da te nuove cose. Ti chiedo di guidarmi, che ciò che esca dalla mia bocca venga dal tuo Spirito Santo, dal tuo Ruach HaKodesh e non da me. E grazie di nuovo, nel nome di Yeshua HaMashiach, Gesù il Messia. Amen. Come vi ho detto, questo si chiama Todot e qua leggiamo il primo versetto, il primo passo di questa porzione. Dice, e queste sono le generazioni, cioè Todot in ebraico, di Yitzchak, figlio di Avraham, Avraham generò Yitzchak. Ok, Yitzchak sarebbe Izzakko. La scorsa settimana in Parusha HaEi Sarà, che vuol dire la vita di Sara, Abramo aveva mandato il suo servitore anziano, cioè quello più grande, a trovare una sposa giusta per il suo figlio Yitzchak, Izzakko, che aveva 40 anni. Abramo agiva con fede sulla promessa di Hashem di dare la terra alla sua progenie, in Genesi 24, versetti 6 e 7. Trovare una moglie tra i parenti di Abramo per allevare le prove, diciamo, più stosto che tra i cananei, divenne una priorità quando la vita di Abramo stava arrivando al suo termine. Quindi la fede, voglio che notate qui, la fede di Abramo non era passiva, era attiva. Lui collaborava attivamente con gli scopi di Hashem, con le sue promesse. Quindi se Hashem ci promette una cosa, ci vuole azione anche dalla nostra parte. Non dire, vabbè, tanto lui ha promesso, sto qua ad aspettare. No, bisogna fare le cose per farlo anche avvenire qualche volta. Ok, per me fu quando Hashem mi disse di venire in Italia nel 2011 e io dovessi fare delle cose per poi arrivare qui. Se no, non stavo qui e non potevo avere tante promesse che lui aveva per me. L'abbrascià di questa settimana, come vi ho detto, si chiama Todot, significa discendenti o generazioni. Quindi la parola saidot deriva dal verbo ebraico yalad, stai dicendo, ma che stai dicendo? Viene dalla stessa parola, no. Significa generare. Ok, generare. Come nel produrre prole. Quindi generare o produrre. In questa porzione la moglie di Isacco, Rebecca, o Rivka, rimane incinta dopo essere rimasta senza figli per vent'anni. Quando i figli dei bambini nel suo grembo si spingono l'uno all'altro, lei cerca Adonai per sapere che cosa sta succedendo, per una risposta. Adonai le dice, le fornisce un'intuizione profetica, dicendole che due nazioni sono nel suo grembo e che il più grande servirebbe il minore, cioè il più piccolo. In Genesi 25, 23. Quindi lei dà alla luce due gemelli, Giacobbe ed Esau. Inizia una rivalità tra i due fratelli che continua ancora tra i discendenti di Giacobbe, che sarebbe il popolo ebraico, e i discendenti di Esau, che sono generalmente gli arabi musulmani. Quindi il nome di Esau deriva, viene dalla radice semitica Seir, che significa dai capelli volti, era nato peloso. Poiché era nato proprio peloso, aveva tanti peli già dalla nascita, immagino, però ha visto bambini così. Il nome di Giacobbe significa talone, perché è uscito dal grembo materno aggrappandosi al tallone del fratello gemello. Immaginate, cioè chi ha mai visto questa cosa? Penso negli anni passati da quell'epoca. Non so se è successo altre volte, ma non credo. Questo simbolizzava la sua tenacia e perseveranza nel lottare per la benedizione del diritto di primogenitura che apparteneva ad Esau, che era il vero primogenito. Il nome Giacobbe può anche essere visto per significare storto o inganevole. Esau e Esau fa riferimento a questo significato. Quando lui dice, non si chiama giustamente Giacobbe, questa è la seconda volta che si approfitta di me. Giacobbe ha preso il mio diritto di primogenitura e ora si è presa la mia benedizione. Questo è il troviamo in Genesi 27, 36. Io devo dire la verità, non è che lui può dare la coppa a Giacobbe perché Giacobbe aveva preso la primogenitura, perché è stato lui a darlo via per... vediamo, no? Tra poco. I gibendi non potrebbero essere più proprio diversi. Esau era un cacciatore e Giacobbe, un casalingo, aiutava la mamma. Esau, a quanto pare, aveva anche un atto ribelle e stotto. Un giorno, quando torna a casa, affamato da una battuta, cioè è andato a fare la caccia, scambiò il suo diritto di primogenito con una ciotola di zuppa rossa fatta da Giacobbe, probabilmente lenticchie si dice. Per questo fu chiamato Edom, che è un nome che condivide la stessa tradizione ebraica che vuol dire rosso, Adom, come Adamo. Adamo, ok? Questo lo troviamo in Genesi 25-30. Io lo trovo interessante perché io sono fatto un po' di tutte e due. Mi piace fare la caccia per mangiare, ovviamente, quando posso, e mi piace cucinare e stare in casa e fare le cose di casa. Quindi sono un po' tutte e due. Quindi vedo me stesso in questi due caratteri. Però non sono il tipo che voglio dare via la mia benedizione, ok? nel primo genitore. Quindi parliamo di benedizione anche durante una caratteristia, un tempo di mancanza. Isacco piantò ancora la terra e quello stesso anno raccolse e centuplò, centuplò, perché il Signore lo benedisse. Genesi 26-12. Quindi questa parasha, una caratteristia nel paese simile a quella che ispirò Abramo a soggiornare, a viaggiare in Egitto, fa sì che Isacco si recchi ad Abimelech dei fidistei a Gerar, che è una città nel sud di Canaan. Là a Gerar Hashem conferma l'alleanza bramatica con Isacco, promettendo in Genesi 26, versetti 2 a 5. Rimani in questa terra un po'. Io sarò con te e ti benedirò, poiché a te e alla tua discendenza io darò tutte queste terre e confermò il giuramento che ho fatto con Abramo, tuo padre. Renderò la tua discendenza numerosa come le stelle del cielo e darò loro tutte queste terre e per mezzo della tua discendenza saranno benedetti tutte le nazioni della terra. Quindi Isacco diventa estremamente ricco a Gerar, tanto che i fidistei diventano invidiosi e riempiono i pozzi che Abramo aveva scavato con terreno, sabbia. Tale azione è stata devastante in questa terra aglida e deserta, come sapete, dove l'acqua è preziosa, vitale per la vita. Dovunque andiamo l'acqua è preziosa, ma più che mai nel deserto. Anche Isacco diventa così potente a Gerar che il re Abimelech gli dice riandarsene. Dopo essersi finalmente recato a Berceva, che sarebbe Berceba, Hashem riafferma ancora una volta il patto adbramico, in Genesi 26-24. Io sono il Dio di tuo padre Abramo. Non temeri, perché io sono con te. Ti benedirò e aumenterò il numero della tua discendenza per amore del mio servo Abramo. Quindi in armonia con questa parola di conforto e incoraggiamento, Abimelech va da Abramo mentre è a Berceva. Nonostante il suo odio per Abramo, in Genesi 26-27, lui fa un patto, o in ebraico un brit, di pace con lui. Che dice in Proverbi 16, versetto 7, quando il Signore si compiace della tua, della via di qualcuno, fa pace con i suoi nemici. Posso dire questo sulla mia vita, io l'ho visto magari quando stavo nelle situazioni e che avevo delle persone che magari mi odiavano, potevano farmi male, portava pace fra me e loro. È bellissimo ed è una cosa che solo lui può fare. Quindi come possiamo assicurare la benedizione? Cosa vuol dire? Mentre Isacco si avvicina alla fine della sua vita, lui cerca di affidare ad Esau il compito di portare avanti la tradizione di Abramo e di assicurarsi della successione per Esau. Lui dice a Esau che quando entrerà con un pasto speciale a base di selvaggina, selvaggina, non so come si dice, cioè di carne selvatica, pronuncerà su di lui la benedizione del primo genito. Ovviamente Isacco piaceva questa tipo di carne. Rebecca, che ha saputo dal momento della sua gravidanza che Esau avrebbe servito a Giacobbe, lei comprende la vera natura dei suoi figli e ascolta per caso il piano di suo marito. Allo stesso modo, forse in cui Abramo aveva preso misure attive per garantire le promesse di Hashem, lei decide di inviare Giacobbe travestito da Esau per ricevere la benedizione al posto del fratello. Io mi sono sempre chiesto come ha fatto il padre, anche se non vedeva, a non sentire il fatto che aveva messo la pelliccia degli animali addosso. Si sente la differenza tra i pelli dell'essere umano e qualcosa di un animale. Ma forse Esau era proprio così peloso, non lo so. Quindi, sebbene Giacobbe sia relutante a ingannare suo padre, non vuole neanche rifiutare sua madre. Quindi, quando lei si assume la responsabilità di questo atto, dice «Non ti preoccupare, fai quello che ti dico, tutto quello che succederà verrà su di me». Lui si traveste da Esau e porta a Isacco il pasto che sua madre aveva preparato che aveva il sapore di carne selvaggia. Sebbene Isacco, che ha difficoltà a vedere, non si è del tutto sicuro di quale dei due gemelli sia davanti a lui. Si è scritto che non era sicuro. La strategia funziona e lui benedice Giacobbe. Esau nutre il raccore, come sappiamo, contro Giacobbe. Quando Rebecca sente Esau che minaccia di uccidere Giacobbe, dopo la morte di suo padre, lei e Isacco mandano Giacobbe dal fratello di Rebecca Labano per trovare una moglie. Prima che Isacco mandi Giacobbe nel suo viaggio, passa alla torcia pronunciando su di lui le benedizioni dell'alleanza apramatica. Dice in Genesi 28, 3 a 4 Dio onnipotente vi benedica, vi rende fecondi e vi accresca fino a diventare una comunità di popoli. Non è che parla in maniera così, però dice così Egli dia a te e alla tua discendenza la benedizione data ad Abramo, affinché un posto a prendere il possesso dei paesi dove ora risiedi come straniero, i paesi che Dio ha dato ad Abramo. Allora parliamo di come Giacobbe raccoglie ciò che semina. Tutti sappiamo che nella vita quello che noi seminiamo raccogliamo, se è una cosa buona o non buona. Il fatto che Giacobbe abbia approfittato della vulnerabilità del padre cieco e anziano per ricevere la sua benedizione è un atto che la Torah non condanna, però ne giustifica. Insomma, tuttavia sembra che Giacobbe non sia sfuggito del tutto alle conseguenze di questo inganno. Giacobbe sta dicendo come, come mai, come ha fatto nel capitolo dei successivi della Genesi Giacobbe assappora l'amarezza dell'inganno quando Labano, come lo dici, il padre della moglie, lo induce a sposare Lea, che è quella più grande, piuttosto che Rachele, che lui ama veramente, perché a quell'epoca si usava nella cultura sposarsi la figlia più grande, cioè se tu sei il padre ti fai sposare la figlia più grande, poi vai giù sulla scala, diciamo, se ci sono tante figlie, allora dalla più grande, poi la seconda, terza, eccetera, eccetera. Quindi questo dimostra il principio che semineremo ciò che raccoglieremo, cioè raccoglieremo, insomma, quello che seminiamo. Giacobbe soffre anche per venti anni lunghissimi sotto allo sfruttamento del sociolo. La parola mi sfuggiva, non so perché, nel sociolo che cerca più volte di difradarlo del suo stipendio pure. Nonostante tutte queste difficoltà, Giacobbe insiste per ricevere le benedizioni e, alla fine, ha un grande successo. Lui genera i dodici figli che sarebbero diventati il fondamento delle dodici tribù di Israele. Notiamo, però, che dieci di questi figli vengono da Lea, quelle che lui non amava. Non ho capito come non faceva amarle, però ha fatto dieci figli. E poi solo due vengono da Rebecca, cioè da Rachel, scusa. E vorrei parlare adesso di cosa vuol dire preferire l'uno sopra l'altro, o preferirsi l'uno all'altro. Dice in Romani 12, 10, siate devoti gli uni agli altri nell'amore. Onoratevi l'uno all'altro all'isopra di voi stessi. Quindi, i contendenti per un trono, per esempio, un'opposizione di comando, un lavoro, non hanno bisogno di essere coinvolti in rivalità ostili come lo erano a Giacobbe e a Esau. Nell'Aftara sarebbe la parte profetica per Shabbat Nachor Amachor Kodesh. Il figlio del re Saulo, che sarebbe Jonathan, sarebbe stato in linea per il trono. Davide è ovviamente favorito da Hashem ed è estremamente popolare tra la gente. Se vi ricordate, Hashem aveva rigettato Saulo come re per la sua disobbedienza e aveva detto io stermirò anche tutta la tua famiglia. Povero Jonathan. Quindi a me sembra essere un po' chiaro sia a Saulo che a Jonathan che Davide sarebbe stato il re. Saulo quindi cerca di uccidere, come sappiamo, Davide, più di una volta. Mentre Jonathan rimane fedele al suo padre, lui rimane fedele anche a Davide e lo protegge, mandandolo via come amico e fratello. Lui amava Davide, dice, e aveva un amore proprio intenso. Invece di soccomborre all'invidia e alla gelosia, come fece Esau, lui non brama il trono e sceglie invece di mantenere la sua amicizia con Davide. E questo non ho mai capito perché Hashem doveva uccidere questo povero Jonathan, che era un bravo ragazzo, era molto dolce, e stava con Davide. Quindi, però, quando Hashem dice una cosa, è così. Dice, Jonathan disse a Davide, Va in pace perché abbiamo giurato amicizia l'uno con l'altro nel nome del Signore, nel nome di Adonai, dicendo, Adonai è testimone tra me e te, e tra la tua discendenza e la mia discendenza per sempre. Primo Samuele 20, 42. Quindi vorrei parlare dell'amore di Hashem per i figli di Giacobbe. Eppure io amavo Giacobbe, ma odiavo Esau. La parola usata qui per odiare, che purtroppo fu tradotto molto male, si chiama Sone, e lo troviamo in Malachia 1, 2 e 3. Nella Aftara normale di Todot, cioè che è Malachia, capitolo 1, versetto 1, fino a capitolo 2, versetto 7, Hashem afferma il suo amore per i figli di Giacobbe, e conferma la resa dei conti che dovranno affrontare i figli di Esau, che hanno maltrattato i loro cugini. Dicchiara tramite il profeta Malachia, ho amato Giacobbe, ma ho odiato Esau, e ho trasformato la sua regione montuosa in una landa desolata, e ho lasciato la sua eredità agli sciacali del deserto. Malachia 1, 2 e 3. Quindi la parola ebraica che qui viene introdotta odiata è Sone, che è spesso usata in senso comparativo. Andremo a vedere chi non vuol dire odiare. Ebbene, qui significa odio, quella parola italiano non ha il pieno significato di questa parola. Sone ha più la sensazione di amare di meno, o rifiutare, rigettare, scegliere al posto di. Ed è simile alla preferenza che Giacobbe aveva per sua moglie Rachele, rispetto alla moglie Lea. Inoltre, questa parola ebraica Sone è probabilmente dietro la dichiarazione di Yeshua, che è scritta in Luca, che dice, se uno viene a me e non odia il padre e madre, moglie, i figli, fratelli e sorelle, sì, anche la propria vita, tale persona non può essere il mio discepolo. Luca 14, 26. E mi sono sempre chiesto, come mai Dio ci chiama ad odiare? Ma non vuol dire quello, vuol dire semplicemente, se tu preferisci stare con mamma, papà, i navoli e i figli, che sono importanti però, fratelli e sorelle, eccetera, eccetera, il tuo lavoro, tu non puoi essere il mio discepolo. Sappiamo bene che i discepoli di Yeshua, tanti erano sposati, però sono andati in altre terre, altri luoghi, paesi, per portare la parola, e furono uccisi. Hanno lasciato le moglie e i figli indietro. Quindi, andate a vedere voi. L'idea qui, però, è che dobbiamo amare i nostri familiari meno di Adonai, meno di Yeshua, ok? Quindi ciò non diminuisce l'amore che dobbiamo mostrare a loro, però eleva e dà priorità all'amore che dobbiamo avere per Hashem. Se lui ti dice vai, fai così, vai là, fai così, lì, fallo. Forse questo spiega anche il comportamento di Jonathan, per esempio. Rimase fedele al suo padre, ma non collaborò con i suoi piani omicidi contro Davide. Io sono un tipo di persona che voglio bene la mia madre, mio padre e i parenti, ma se Hashem mi dice vai, io non metto in questione, vado. Gli dico ciao, li voglio bene, ci vediamo dall'altra parte magari. Non so se ci vedremo qui. Così fu una scelta per me di venire in Italia, che quando andai via nel 2012 non pensavo mai di vedere più i miei genitori. E fu una scelta che io ho fatto perché Adonai mi disse vai, questa è una scelta che tutti devono prendere. è solo un esempio. Naturalmente non possiamo offrire questa realtà fra Jonathan e Davide, non possiamo offrire una spiegazione del motivo per cui Hashem, scienza e Davide sopra Jonathan, tranne il fatto che aveva detto io ti rigetto Saulo e sternerò anche i tuoi discendenti. Però Jonathan sarebbe stato l'erede giusto al trono dopo la morte di Saulo. Sebbene Hashem non dà proprio una spiegazione della sua preferenza per Giacobbe, potremmo supporre che sia perché Esau divenne carnale, era nella carne, gli interessavano le cose della terra e magari Giacobbe era più interessato alle cose di Hashem. Lui era un uomo dedito alla caccia e all'uccisione. Non per dire che la caccia è male, perché se lo usiamo per mangiare è un conto, però lui viveva per quello. Mentre Giacobbe ha abbracciato la sua spiritualità come il suo scopo più alto nella vita, che è un conto per la caccia, però è un conto mettere la parte spirituale più importante di altre cose. Qui stiamo parlando di quello. Non dice perché, questa è una presunzione. Anche se potremmo offenderci verso Hashem per aver scelto una persona piuttosto che l'altra, chiedendo perché dovrebbe preferire Giacobbe ad Esau. Hashem non ama tutti i suoi figli come allo stesso modo? Dobbiamo capire che Hashem nella sua misericordia sta realizzando un piano per il nostro benessere che lui ha portato via dalle persone dalla tua vita o con la morte o portandole via e basta, dovremmo essere contenti perché magari quelle persone non ci aiutavano ad arrivare a ciò che Hashem aveva pianificato per noi, anzi ci avevano bloccato. bloccato. Può succedere. A me è successo, io sono contentissimo di non avere più quelle persone nella mia vita e non ne voglio più nella mia vita. Lo voglio bene, posso pregare per loro, ma stai là perché io voglio servire il Signore. Così è per me. Ok? Lui sa cosa ci fa bene, cosa lui vuole per farci arrivare al suo scopo nella nostra vita. Ok? Ci sarà chi piace, non piace questa parola, però mi dispiace, io non sono colui che ha scritto la Bibbia. Ok? Però ha infatti ordinato alcune persone anche prima della nascita, prima del gremo materno, si può dire, prima anche del tempo, prima della creazione, per scopi e destini speciali. Ok? Io non so te, io preferisco il mio destino speciale anziché essere attaccato troppo a qualcuno o a qualcosa. Il profeta Geremia è una di queste persone qua. E in Geremia 1.5 sta scritto Prima di conformarti nel gremo materno, ti conoscevo. Prima che tu nascessi ti ho messo a parte. Ti ho costituito profeta delle nazioni. E' importante. Quante persone nella vita sono state scelte da Hashem per fare una cosa speciale? Anche la parte di questo Be'i Hareshah, il Nuovo Testamento, il Nuovo Patto, affronta questo argomento, rendendo chiaro che i figli delle promesse sono figli di Abramo. Chi può scandaliare le vie di Hashem? Egli ha chiamato tra giudei e gentili quelli preparati in anticipo per la gloria sua per essere i basi di misericordia. E in chiusura vorrei parlare un po' di Isacco che prega per Rebecca. Bellissimo questo parte. Proprio come la moglie di Abramo, Sara, era sterile, anche la moglie di Isacco Rebecca non poteva avere figli. Ci si dice che non aveva neanche proprio l'utero. Per vent'anni lei e Isacco hanno creato, cioè cercato di avere un figlio. Ok? Per vent'anni. È normale che una coppia desideri dei figli, ma per Isacco era fondamentale. Era l'erede delle grandi promesse fatte a suo padre Abramo. Se non avessi avuto i figli, quelle promesse non avrebbero potuto essere trasmesse alla generazione successiva. Isacco si rivolta ad Adonai e lo supplicò per conto di Rebecca. Lui pregava per la moglie. Dice in Genesi venticinque e ventuno Isacco pregò Adonai per sua moglie perché era sterile che Adonai gli dispose e Rebecca sua moglie concepì. Il Talmud molto interessante dice perché i nostri antenati erano sterili, perché è santo e benedetto gli sia anella ad ascoltare la preghiera dei giusti. Che bello! se tu pensi Hashem Adonai vuole sentire le nostre preghiere vuole essere chiesto da noi quelle che lui ha promesso se lui ha promesso una cosa qualche volta penso che due aspetti che chiediamo anzi spesso è così c'è rabbino Rashi di tanti anni fa ha fatto due noti sulla formulazione ebraica di questo Genesi 25 21 quando dice che Isacco ha pregato usa una parola che implica supplica Rashi che questo significa che Isacco aveva pregato con insistenza per lei possiamo supporre che Isacco avesse pregato durante i vent'anni della sua sterilità questa è la preghiera persistente noi andiamo a vedere anche che Yeshua ci insegna a pregare con insistenza lui ha detto che la preghiera persistente può essere paragonata a una vedova che aveva continuamente supplicato giudice o re locale di ascoltare il suo caso sebbene il giudice o questo re non temesse Hashem né rispettasse gli uomini l'essere umano decise di ascoltare il suo caso per timore che lei lo augurasse con le sue lamentelle se la supplica persistente funziona con un re o un giudice ingiusto e maligno che non teme né Hashem né gli uomini questo quanto più sarà spinto al giusto il giusto giudice il giusto re dell'universo a rispondere alle nostre suppliche Yahshua ha raccontato anche un'altra parabola sul potere della preghiera persistente lo ha paragonato un uomo che aveva bisogno di prendere un prestito del cibo dal suo vicino per sformare un ospite inaspettato tardi nella notte ma il suo vicino era già andato a letto l'uomo ha continuato a supplicare a bussare al suo vicino fino a quando l'uomo alla fine si alzò dal letto e ha dato ciò di cui aveva bisogno io non so te sarebbe un po' difficile per me alzarmi dal letto poi se sento bussare qualcuno tardi nella notte dopo che sono andato a letto e io vado molto tardi fra mezzanotte e luna ok quindi per me è tardi però forse se qualcuno bussa poi sei anche un'emergenza ma io vedere che cosa sta succedendo quindi se la supplica insistente funziona con un vicino pigro e rilutante tanto più sua scema che nessun ecchia né dorme questo vediamo in Luca 11 5 a 8 Yeshua ci incoraggiò a pregare con insistenza dicendo chiedi chi sarà dato cerchi e troverai pulsate e vi sarà aperto Luca 11 9 quindi Rashi fa una seconda osservazione su questa formulazione ebraica di questo passo in Genesi 25 21 notiamo notiamo che l'ebraico dice che Isacco implorò Adonai di fronte a sua moglie Rashi spiega Isacco stava da un angolo e pregava mentre Rebecca stava nell'angolo opposto e pregava chissà in altre parole Isacco e Rebecca pregarono insieme Hashem sente il nostro preghiere anche quando siamo singoli ok o da soli però è più forte quando siamo insieme specialmente insieme alla nostra metà così si dice infatti sta scritto quando due o più persone pregono in unità e d'accordo sarà fatto così dice e lo posso dire sulla mia vita che è vero l'ho testimoniato e ancora continuo a testimoniarlo Adonai ascoltò le preghi di Isacco e Rebecca e rispose permettendo a Rebecca di concepire proprio come il concepimento di Isacco da parte di Sara fu un intervento miracoloso diretto di Ascena così anche Rebecca c'è un grande potere nelle suppliche di un marito e una moglie che si impegnano a pregare insieme signore e signori è bellissimo questo fatto quindi se avete i commenti vi chiedo di metterli sotto se magari avete qualche preghiera però meglio usare il link sotto nella descrizione dei contatti perché credo che sono cose un po' più personali privati noi siamo qui per voi per pregare insieme e per voi avete i commenti sono sempre belli se volete contattarci per qualsiasi cosa c'è sempre il link e siete benvenuti ad usarlo perché piace sentire sentire da voi se volete una consulenza sulla counseling su Mahasai Sheltikva c'è il link perché mia moglie la Rebezzin Gabriella è counselor esperto con la diploma di licenza italiana e c'è il link sotto per Mahasai Sheltikva che le offre questo servizio su base biblica se volete sostenerci vi chiediamo di cliccare proprio nel link proprio giù in fondo di tutto c'è un link per sostenerci tutto quello che facciamo lo facciamo con amore se volete sentite guidati di farlo c'è il link sotto e con lo stesso link potete anche dedicare una porzione del Torah in futuro a qualcuno o a qualche occasione speciale perché abbiamo visto in America mentre siamo stati là che tanti sinagoghi fanno così che uno può pagare una piccola somma anche 10 20 euro quello che volete e dedicare proprio una porzione della Torah a qualcuno o per un'occasione speciale molto carino questo fatto una volta l'abbiamo fatto era molto bello farlo quindi se volete fare così anche si usa lo stesso link per sostenere del sostegno giù in fondo se volete accettare Yeshua oggi come vostro Moshe e volete farlo adesso è il tempo prima che lui torna ok perché è importante o prima che uno non sta più su questa terra se avete domande di come può essere Yeshua Messia specialmente se sei ebreo ebrea abbiamo un libro da mandarvi se ci dite sempre nel link di contatti il vostro nome indirizzo numero di telefono magari e anche c'è un buon modo per mandarvi questo libro ve lo mandiamo noi non vi costa niente lo facciamo con umore è un libro bellissimo che si chiama Isaia 54 spiegato ok abbiamo stampato 200 copie proprio l'anno scorso in quest'ultimo anno proprio per avere una coppia qui in italiano se non volete iscriverci per il libro basta che andate a vedere Isaia 53 nella Bibbia e spiega tutto su Yeshua vi invito a pregare insieme a me adesso questa preghiera se volete accettare Yeshua come il vostro tuo Messia personale paruch atah adonai Eloheinu melech haolam benedetto sei tu signore nostro Dio rei dell'universo che ci ha dato le vie della salvezza in Yeshua e Messia adesso voglio chiudere questo tempo con voi grazie di averci ascoltato così bello stare insieme a voi e varechecha il principe della pace shalom shabbat shalom a tutti alla prossima settimana a come a as as a a a Grazie a tutti.